E' il secondo incontro che dedichiamo alla parola di Dio E' molto importante ricordarsi di questo Il nostro Dio non è, come dicevamo la volta scorsa, non è un Dio muto Un Dio che se ne sta per i fatti suoi Il nostro Dio è un Dio che parla Con la parola ha creato il mondo La sua parola poi si è incarnata E allora dobbiamo distinguere tutto quello che è avvenuto prima di Gesù Cristo Perché con l'avvenuta di Gesù Cristo, soprattutto con la sua passione, morte e risurrezione Anche il discorso della parola è diventato diverso Perché quando la parola si è incarnata Quando il verbo di Dio, cioè colui che esprime la volontà di Dio Immaginatevi a livello così psicologico Come una persona si esprime attraverso il linguaggio, la parola Dio si esprime attraverso suo figlio Un po' come per esempio un albero da frutto Si esprime quando fa i frutti Ecco, noi vediamo germogliare per esempio dei frutti In un albero da frutto, per esempio un albero di pesche Ecco, poi a un certo punto fruttificano queste pesche Quei frutti sono l'espressione dell'albero Cioè l'albero ci parla, si esprime, si rivela per quello che è E questo avviene con Gesù Cristo Ma noi siamo ancora prima di Gesù Cristo I primi passi, i primi tre passi biblici Riguardano il modo con cui fondamentalmente il Signore Parlava alle persone Attraverso una persona, il profeta Questo poi anche con Gesù Cristo Io vi ricordo che il nostro battesimo Ci dà un carisma profetico a tutti Non si tratta di cose sempre fuori dall'ordinario Si tratta anche nella vita ordinaria Di essere in qualche maniera chiamati da Dio E abilitati da Dio A esprimere le cose di Dio Un po' come quando Gesù diceva Io sono la luce del mondo Voi dovete essere la luce del mondo Il sale della terra Ecco, questo fatto di essere luce del mondo È una capacità che ci dà il Signore Attraverso lo spirito della Pentecoste Di essere anche nella vita ordinaria, profeti Giustamente la parola profeta Evoca un po' cose straordinarie Fuori dall'ordinario Però, onestamente, è noi nella vita ordinaria Che dobbiamo vivere queste cose Sì, ci sono momenti straordinari Come nella vita di ognuno ci sono dei momenti straordinari Però i momenti straordinari Gli eventi straordinari Servono per dare senso alla vita ordinaria Ecco, non possiamo pensare che uno debba vivere Alimentarsi solo di eventi straordinari Ci sono momenti fuori dell'ordinario Ma è nella vita ordinaria che poi si realizza Il vero piano di Dio Quindi, prendiamo per esempio prima Questa vicenda di questi primi tre passi Ci fanno vedere quanto è stato difficile per il Signore Farsi ascoltare dal popolo Ci accorgeremo in questi tre passi Che anche il profeta Geremia Che si serve anche dell'aiuto di un altro profeta A un certo punto Non riesce a parlare come voleva Dio al re Nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia Re Giuda Fu rivolta a Geremia da parte del Signore questa parola Vedete, il Signore parlava a una persona E la incaricava di dirlo a tutti Quindi la parola era destinata a tutti Solo che era veicolata da una persona Prendi un rotolo e scrivi tutte le parole Che io ti ho detto riguarda Gerusalemme A Giuda, alla tribù di Giuda E a tutte le nazioni Dal tempo di Giosia fino ad oggi Forse quelli della casa di Giuda Sentendo tutto il male Che mi propongono di fare Abbandoneranno la propria condotta perversa E io perdonerò le loro iniquità E i loro peccati Vedete, l'intento di Dio Era siccome avevano preso una strada sbagliata Allora il Signore interviene Parlando con Geremia e dice Guarda, io ti dico quello che devi scrivere Sul rotolo Dillo Ecco, con l'intento Che loro si rendano conto Del male che stanno facendo Ecco, prendiamo un altro passo La continuazione Andrai dunque nel Tempio del Signore Andai, quindi andai sarebbe Dunque nel Tempio del Signore In un giorno di digiuno A leggere nel rotolo Andrai, no andrai Sì, sì, ancora sta parlando il Signore Andrai dunque nel Tempio del Signore In un giorno di digiuno A leggere Gli dice il modo che deve fare Ecco questo Che hai scritto sotto la mia dettatura Le parole del Signore Le leggerai al popolo E a tutti quelli di Giuda Che sono venuti dalle loro città Forse si umilieranno Con suppliche dinanzi al Signore E ciascuno abbandonerà La sua condotta perversa Perché grande è l'ira e il furore Che il Signore ha manifestato Verso questo popolo Baruch, figlio di Neria Che era l'aiutante di Geremia Fece quanto gli aveva comandato Il profeta Geremia E lesse dal rotolo Le parole del Signore Nel Tempio del Signore Ecco, vedete Il Signore Per evitare Una rovina Vi ricordo che Nell'Antico Testamento Si parlava molto spesso Del castigo di Dio Mentre poi nel Nuovo Testamento Il Signore ci dice Che quello che noi consideriamo Spesso il castigo di Dio È il frutto Dei nostri peccati Ecco Tante volte che succede Mettete che una persona Per esempio Si comporta male Poi ha delle conseguenze negative Allora le persone dicono Il Signore l'ha punito In realtà il Signore Non ha necessità di punire Quasi mai La necessità di punire direttamente Perché il male che facciamo Procura male Procura reazioni negative E quindi poi È come per dire Il male stesso Diventa la rovina Di chi lo ha fatto Ecco Uno per esempio È un imbroglione E poi c'è qualcuno Che gli dà delle batoste Dice Il Signore lo castigò No in realtà Lui ha fatto del male Poi c'è qualcuno Che è più peggio di Dio E quindi poi Lo ricambia così Ecco Quindi Dobbiamo stare molto attenti A pensare Che la parola L'espressione L'ira di Dio Oppure La punizione di Dio Sino Ci facciano immaginare Dio come uno Che si arrabbia come un uomo E che A un certo punto Lo facciamo incavolare E il Signore A un certo punto Si agita In realtà Il Signore Ci ha dimostrato Con Gesù Cristo Che in effetti Non ha questo Tipo di Atteggiamento Il Signore Piuttosto ci dice Guarda che il male Produce male E il male È per te Perché non è che Il male Glielo facciamo a Dio Ecco È un po' come Quando un insegnante Dice ai ragazzi Ragazzi Se voi non studiate Non è che pigliate Per fessare a me Cioè A un certo punto Se è peggio per voi Perché poi A un certo punto Se restate ignoranti Poi La vita vi castiga Perché restate ignoranti Perché di fatto Non È come per dire Non possiamo aspettarci Che uno fa il male E poi Questo produca del bene Il male Produce sempre male Quindi diventa Una specie di autocastigo Ma comunque Il terzo passo È Possiamo dire La conseguenza Guardate Dopo che il re Ebbe addirittura Bruciato il rotolo Pensate Non solo Non lo ascoltarono Ma addirittura Quando il profeta L'esse il rotolo Gli pigliarono il rotolo E lo bruciarono Come vuol dire Non ci interessa niente Con le parole Che Barucca aveva scritto Sotto dettatura Di Geremia Le parole del Signore Fu rivolta Quindi dopo che il re E gli altri Bruciarono il rotolo La parola Di nuovo Fu rivolta a Geremia Prendi un altro rotolo Vedete E devasterà E farà scomparire Tutto questo racconto Tutto questo racconto È narrato Secondo La loro Giustamente La loro Cultura La loro mentalità Quindi c'è da rivedere Alla luce del Nuovo Testamento Perché Dobbiamo sempre ricordarci Che tutto quello Che avviene Prima di Gesù Cristo Ed è raccontato Nella Bibbia Deve essere Sempre Confrontato Con quello Che Gesù ci ha rivelato Perché Come c'è nella liturgia Che quando si legge La Bibbia Si sta seduti Ma quando si legge Il Vangelo Ci si mette in piedi E ci si fa Il segno della croce Sempre Questo significa La liturgia Perché L'ex orandi L'ex credendi Cioè Quello che noi Viviamo nella liturgia È la legge Della fede Cioè Non è che Nella liturgia Si fanno le cose per caso Cioè Quello che si prega Nella liturgia È proprio La preghiera Della vera fede La vera fede Quindi il fatto Che ci si alzi Nella liturgia Quando c'è il Vangelo Significa Che il Vangelo È la perla preziosa Di tutto La preziosità Della Bibbia Come vuol dire La punta più alta Della rivelazione Quindi anche Questo fatto Della punizione di Dio Che se uno Se non ci fosse Gesù Noi la interpreteremmo Come L'ira di Dio Così Noi ci ricordiamo Che Gesù Poi è morto Per i peccatori Gesù Quando i peccatori Non solo Qua hanno bruciato Il rodolo L'hanno bruciato Gesù Cioè L'hanno distrutto Ecco E quindi Quando poi Il Dio Si è veramente Rivelato In effetti Non ha distrutto I nemici Ma è morto Per i peccatori Quindi Significa Che questo tipo Di punizione È vera Ma è causata Degli uomini Non è una punizione Che viene da Dio E possiamo Interpretarla Alla luce Del Vangelo Come la conseguenza Di tutte le malefatte Che hanno fatto Queste persone Loro Che ancora Non conoscevano Gesù Giustamente L'hanno riletta Dando il senso Di una punizione Di Dio Quindi È una cosa Un po' delicata Però io vi direi Tenetene conto Di questo fatto Perché Chi legge solo L'Antico Testamento Può farsi Un'idea di Dio Che è un po' Diversa Da quella di Gesù Perché Gesù Addirittura Si è fatto Agnello Immolato Per i peccatori Uno dice Ma oh Susa Allora il Dio Dell'Antico Testamento È diverso Dal Dio del Nuovo Testamento Come? Nell'Antico Testamento Puniva Le persone cattive E nel Nuovo Testamento Muore per i peccatori Non è lo stesso Dio No È lo stesso Dio Solo che Nell'Antico Testamento Non conoscendo la verità Davano una lettura Dei fatti Che era Conforme Alle loro Poche conoscenze Ecco È un po' come Quando Che vi dice Potrei dirvi una cosa Prima Di sapere Che cosa fossero I fulmini Ecco Uno che moriva Fulminato Da un lampo Ecco Anticamente pensavano Dicevo signore Su fulmino Proprio così Mentre oggi sappiamo Che se uno si mette sotto L'albero Un albero Mentre ci sono le tempeste Attira i fulmini È facile pure che muore Ma oggi non diciamo più Che è un castigo di Dio Perché le conoscenze scientifiche Ci hanno fatto capire Che una persona Per salvarsi Si deve mettere Su una macchina Per esempio Perché la macchina Fa da gabbia di faradei E uno si salva Vedete è una cosa Che è scientifica La conoscenza scientifica Ci ha fatto spiegare Molte cose Non tutto Ma alcune cose Però la conoscenza Di Gesù Che ha dato Gesù Ci ha fatto conoscere Come interpretare L'Antico Testamento In una maniera Molto più Possiamo dire Conforme alla verità Ci siamo Chi non conosce Gesù E interpreta Gli avvenimenti Secondo un'ignoranza Che non gli permette Di capire Chi è Dio Per esempio Se una persona Capisse Che Gesù Crocifisso Ha fatto in modo Che anche I guai della vita Diventano salvezza Per l'umanità Quando uno Ha una malattia Non dice Ma il Signore Mi sta chiamando A partecipare Alla salvezza Dell'umanità Portando la mia croce Perché il Vangelo Di Gesù E soprattutto Il mistero di Pasqua Mi dice Che le malattie Le sofferenze Del mondo Che non vengono da Dio Il Signore Le accetta E le Utilizza Per unirmi Alla croce Del Signore Per la salvezza Del mondo Perché San Paolo In Romani 6 Dice Che noi Battezzati Veniamo Uniti Alla morte Di Cristo E alla risurrezione Di Cristo Il battezzato È una persona Che come Gesù Santifica Sia le cose brutte Che le cose belle Della vita Gesù Quando è venuto Nel mondo Dio Quando è venuto Nel mondo In Gesù Cristo Ha accettato I guai del mondo Dice Ma perché Ha fatto i miracoli Perché in effetti Ha fatto dei segni Ma lui stesso Ha detto Che quei miracoli Erano il segno Del mondo nuovo Che lui stava annunciando Cioè della vita nuova Che la resurrezione Avrebbe inaugurato Quindi i miracoli Che ha fatto Gesù Non vanno interpretati Come dei favori Che il Signore Ha fatto a delle persone Che ha incontrato Ma come dei segni Profetici Che indicavano Che era arrivata Una vita nuova Che Gesù Inaugurava Una nuova storia Che la risurrezione Di Gesù Avrebbe creato Un mondo Dove non ci sarebbero State più malattie Sofferenze E morte Quindi In ogni caso Non è che vi voglio Spiegare Tutto Perché sarebbe Andremo fuori Del nostro argomento Però vi volevo dire questo Anche questo brano Profetico Non può essere Interpretato Senza Il confronto Con quello Che Gesù Ci ha rivelato Ecco Questo vi basti Per ora Poi Nel prosieguo Una persona Si abitua A un ragionamento Possiamo dire Pasquale Trinitario Ecco I passi Ora successivi Riguardano Un altro modo Di parlare di Dio Dio non ha parlato Solo con i profeti Dio Per il popolo Anzi un'altra cosa In questo momento Mi viene in mente State attenti Perché In tutti Gli approfondimenti Delle religioni esoteriche Si ipotizza Che Dio Parla Ad alcune persone Privileggiate Quindi c'è Una specie Di elite Del mondo Che conosce I segreti Di Dio Mentre gli altri Il popolo Rimane Ignorante Per questo Ci sono Sapete Le sette Degli iniziati Cioè delle persone Che sono Più preparate Degli altri Come per dire Ci sono delle persone Privileggiate Più intelligenti Più spirituali Che conoscono Delle cose di Dio Che gli altri Non conoscono Questo non c'entra niente Con quello che abbiamo detto Perché Allora Il signore Si serviva Di una persona Per parlare A tutto Il popolo Era il Conciario Dell'esoterismo Mentre L'esoterismo Ipotizza Che Dio Parla A un'elite E lascia Ignorante Il popolo Invece Qua Il signore Chiama Un profeta Per rendere Edotto Tutto il popolo A partire dal re Quindi non ha niente A che vedere Con l'esoterismo Perché vedete Nel Si anticamente Delle comunità Gnostiche Si chiamavano Gnostiche Perché Gnosis Significa Conoscenza Erano delle religioni Ma anche oggi Ci sono Per esempio La massoneria E una Para Religione Laica Che in qualche maniera Si può Associare Alle Correnti Gnostiche Cioè Una Conoscenza Che gli uomini Hanno Alcuni uomini Hanno Che formano Un gruppo Segreto Ecco E che gestiscono Le cose Ecco Su un popolo Che è ignorante Quindi ti dicono Di entrare In questa Setta Perché tu Conoscerai Dio Come non lo Conosce il popolo Tu vuoi essere Una persona Veramente Illuminata Già senza Stasetta Ti iniziamo Ti facciamo Conoscere Dio Perché Dio Si rivela Con certe Pratiche Con certe Cose Ecco E il popolo Invece Rimane Popolino Un po' così E il contrario Della religione Cristiana Invece La religione Cristiana Si è sempre Opposta A questa Mentalità No Tutto Quello Che Per esempio Geremia Riceveva Da Dio Era Destinato Alla gente Al popolo A tutti Era la gente Che non lo voleva Ascoltare Casomai Ma era Dio Lo voleva dare A tutti Ecco Anche oggi Per esempio Quando si fa Un gruppo Quando si fa Una cosa Non si fa Con l'intento Siccome il popolo La gente È ignorante Noi creiamo Un gruppo Di elite Questo Non ha senso Per noi No Noi diciamo Noi apriamo Il discorso A tutti Poi Se ne aderiscono Vinte C'entra Diciamo Non possiamo Costringere Le persone Ma noi Vorremmo Come vi ricordate Matteo 28 Andate in tutto Il mondo E fate figli Di Dio Battezzate E conoscete Tutti Quindi L'intenzione Di Dio Non è di creare Un gruppo Di elite Ecco Come quando Le persone Per esempio Ci dicono A noi Padre Ma troppo gente Peccatrice Viene in chiesa Perché non fate Una selezione Non si può Fare una selezione Si aprono le porte Non si può dire Tu si Tu no Tu sei più bravo Chi del meno bravo Chi del cioppo peccatore Non può entrare Ecco Noi E come per dire La logica di Dio Non è di creare Una chiesa Dei migliori Anzi Vi ricordate Quando Gesù Raccontando L'invito del re Disse Andate a cercare Storpi Ciechi Zoppi Fate ciasere tutti Come per dire Il Signore Se parla a un gruppo Parla perché il gruppo Poi Aiuti l'umanità Aiuti tutti Non si crea mai Nel cristianesimo Qualche cosa Che sia in qualche maniera Elittario No Non si crea mai Si crea sempre Qualcuno Che aderisce a una chiamata Per il bene Per il bene Di tutti Anche per esempio I monasteri Di clausura Non sono delle oasi Isolate Di gente speciale Come dire Quello è monaco Quello è monaca Così No Sono delle chiamate A persone Che devono dare la vita Pregando per tutti Pregando per tutti Infatti i monasteri Da sempre Sono stati Meta Di gente Che va a chiedere preghiere Che va a chiedere consigli Anche quando cominciò Il monachesimo Con Sant'Antonio Abate Quello che noi chiamiamo Sant'Antonio Abate Che poi Non era Abate Perché ancora Non c'erano le abbazie Ma si chiama Sant'Antonio Abate Per un po' distinguere Sant'Antonio di Padova Ma nella chiesa orientale Lo chiamano Antonio il Grande Perché nell'Alto Egitto Cominciò il monachesimo occidentale In pratica Poi Il monachesimo Medio orientale Che poi diede vita Con San Benedetto Al monachesimo occidentale Sant'Antonio Andò nel deserto Ma era Meta Il deserto Di tante Gente che dalla città Andava a chiedere Preghiere e consigli Cioè era disponibile E come vuol dire Si ritirava Per avere le condizioni Ideali per la preghiera E la purificazione Del cuore Perché Una delle cose Che nel primo monachesimo Era fondamentale Che oggi non si usa più È il bisogno Di purificare il cuore Purificarlo da che? Dall'egoismo Dalla superbia Dalla vanagloria Dai sette vizi capitali Dalle paure Quindi il concetto Di purificazione Era talmente importante Per i primi monaci Dai padri del deserto Che è interessante Questo anche oggi Di cui non si parla Se voi vedete Noi parliamo Come se avessimo Il cuore puro No Noi dobbiamo Prendere coscienza Che noi siamo persone Che devono purificarsi Per esempio Dall'orgoglio Dall'egoismo Oggi La messa di oggi Dalla corruzione Per esempio Essere amministratori Fedeli Onesti Ecco E questo ve lo dicevo Perché anche i monaci I primi monaci Non si isolavano Per stare isolati Ma si isolavano Per pregare Ma accoglievano sempre Tutti i pellegrini Che andavano A chiedere loro preghiera O consigli spirituali Cioè erano sempre lì Ma per gli altri Questo concetto Io vi direi È importante Ora vi dicevo Ora Dio non parlò Solo con i profeti Prima di Gesù Cristo Parlò anche Con l'illuminazione Dei sapienti Che è una cosa Un pochino più delicata Mentre i profeti Erano un fatto diretto Dio chiama Isaia Dio chiama Geremia E gli dice Devi dire questo Devi fare questo Nel campo Della sapienza Invece C'è un'altra cosa C'è una luce Che Dio Dà a delle persone Ben disposte Ecco Poi Nel Nuovo Testamento Con la Pentecoste Il dono della sapienza Il Signore lo vuole dare a tutti Ecco Indistrettamente Vedete Sta parlando Personificano la sapienza Che poi vi ricordo Che la sapienza incarnata È Gesù Ecco Fate conto che Già tre secoli Quattro secoli Prima di Gesù Si Si immaginava Un po' Attingendo anche Alla cultura greca Perché nella Bibbia C'è anche un filone greco Non solo ebraico Che approfondisce Il dono della sapienza O a voi uomini Sta parlando La sapienza di Dio E che per noi È poi Gesù Cristo A voi uomini Io mi rivolgo Ai figli dell'uomo È diretta la mia voce Vedete Un Dio che parla Imparate In esperti La prudenza Vi accorgete Quindi già per noi È un insegnamento Spirituale Essere prudenti È già un'illuminazione Di Dio Vedete che la prudenza È un equilibrio Grandissimo Perché vedete La prudenza È il giusto Atteggiamento Per raggiungere un fine Faccio un esempio Banalissimo Se io devo prendere Il Pullman Alle otto e dieci Per essere prudente Non me ne vado Alle sei del mattino Perché io sono prudente Alle sei Signore Dai aspetto due ore Che non sarebbe prudenza Questa è paura Né però Parto da qua Alle sei E nove minuti Che in un minuto Devo arrivare A Giosa Perché è imprudente La prudenza È La scelta La capacità Di scegliere I mezzi giusti Per raggiungere Un fine buono Quindi se per esempio Una persona Deve raggiungere Un fine Non è detto Che utilizza I giusti mezzi Perché tante volte Si esagera Anzi Tante volte Un fine buono Può fallire Perché non si prendono I giusti mezzi Non so se vi ricordate Tanti anni fa C'è stata una grande Raccolta di bene Non mi ricordo Verso i paesi dell'este Però non è Non si è per organizzare Le cose E dopo tre mesi Trovarono tutto Marcito Nel porto Di Brindisi Mi ricordo Perché avevano raccolto Da tutta Italia Non so quante derrate Tante cose Poi non erano riusciti A gestire Sta cosa E in pratica Tutti quei beni Che sono stati raccolti Non hanno mai raggiunto I destinatari Perché Ci furono problemi Di dogana Problemi di organizzazione Problemi di mezzi In pratica Tutta sta roba Poi è marcita Nei container Vedete Uno ha la buona volontà Di fare una raccolta Poi non sa organizzare I mezzi E tutto Che tu che ricogli Si perde Vi accoggete Per esempio Anche l'organizzazione Per esempio Della FAO Che è un'organizzazione Vi ricordate L'organizzazione Dell'ONU Che riguarda La fame nel mondo Ogni 3-4 anni Ti dicono Che non hanno raggiunto Gli obiettivi Cioè Noi pagamo Milione e milione Di euro Per questa organizzazione Poi non raggiungono Mai gli obiettivi Cioè Gli affamati No aumentano Oggi Gesù Gli affamati Per dirvi Non è detto Che una persona Che abbia Un'idea buona Poi sappia Diciamo Utilizzare I mezzi giusti Per raggiungerla Quindi la prudenza E questa grande virtù Vedete Imparate In esperti La prudenza E voi Solti Fatevi Assennati Ascoltate Perché dirò Cose rilevanti Dice Dio Dio Che parla Dalle mie labbra Usciranno Sentenze giuste Perché la mia Bocca La mia bocca Proclama La verità Vi ricordate Che Gesù In Giovanni 14 Disse Io sono la via La verità E la vita E l'impietà È errore Per le mie labbra Tutte le parole Della mia bocca Sono giuste Niente in esse È tortuoso O perverso Ecco vedete Mentre noi uomini Diciamo parole A bambera Tante volte O inutili Ecco vi accorgete Che per ora Che è tempo di elezione Quanto discorsi Inutili che si fanno Ripetitivi Ognuno dice le cose A modo suo Tanto che tutti Abbiamo la La sensazione Che il 90% Di discorsi Che sentiamo Sono non credibili Va Come vuol dire Su tutte parole E elettorale Ma chi dice Non può avere voti Ecco io penso Che un po' tutti Abbiamo questa sensazione Che abbiamo il sospetto Che si fanno Bei discorsi Perché sappiamo Che devono Pgliare voti E siccome Sapete Che votino 20 persone oneste O che votino 21 persone disoneste Vincino i disonesti Se ci sono 20 persone oneste Che votano E 22 persone disoneste Che votano Vincino i disonesti Perché chi lo conta È il numero Quindi Vedete Questi limiti Dio non li ha Perché sono cose umane Per questo il Signore dice Le mie parole Sono tutte chiare Per chi le comprende E rette Per chi possiede La scienza Ecco La scienza Vedete La parola scienza Non è quella Che usiamo noi La scienza Proprio di tipo Scientifico Ecco Perché ancora Pensate Qua siamo 2000 21esimo secolo Mettete 23 secoli 24 secoli fa Quindi ancora Noi parliamo di scienze Dal 1400 Dal 1500 Quindi La parola scienza Qua è intesa Come conoscenza Ecco Sapiente Della vita Ecco Una persona che conosce Anche esperienza Un altro passo Ora è sempre Dio Che parla La sapienza di Dio Che illumina gli uomini Ora figli Ascoltatemi Beati quelli che seguono Le mie vie Ascoltate l'esortazione E siate saggi Non trascuratela Beato l'uomo Che mi ascolta Vegliando ogni giorno Alle mie porte Per custodire Gli stipiti Della mia soglia Infatti Chi trova me Trova la vita E ottiene il favore Del Signore Ma chi pecca Contro di me Fa male a se stesso Quanti mi odano Amano la morte Vedete Dio dice Ascoltatela Loro giustamente Loro pensavano Che la sapienza A quei tempi Fosse Un dono di Dio E loro Anche per una ragione pratica La consideravano Come una persona Che apparteneva a Dio In realtà In realtà Non fosse Che non fosse Uguale al padre Ma che fosse Un pochino Inferiore al padre Come per dire Era Un essere intermedio Tra Dio E gli uomini Questo fu Una grande eresia Che coinvolse Gran parte Del cristianesimo E fu Sant'Atanasio Poi Che fu L'autore Anche l'artefice Della Vittoria Sull'arianesimo Perché in effetti Gesù Cristo È vero Dio È vero uomo Perché se non fosse Vero uomo Non avrebbe Non ci avrebbe salvato Perché Dio Ci ha salvati Facendosi uomo Ed essendo Contemporaneamente Una persona In due nature Divine e umana Ha trascinato Ecco come vuol dire Si è fatto uomo Per trascinarci Nel mondo di Dio Nulla si salva Se non Si Possiamo dire Se non si accoglie Come per dire Questo è anche una cosa Anche psicologica Io per aiutare Una persona Mi devo fare Vicino a quella persona Uguale a quella persona Devo entrare Si dice Si diceva una volta Nelle sue scarpe Ecco questo È importante Perché Se Dio Non si fosse fatto uomo Noi avremmo sempre detto Va bene Ma Dio è Dio L'uomo rimane uomo Invece Dio si è fatto uomo Per renderci Divini Chi va A messa oggi Sente l'alleluia Il versetto alleluia Che dice Dio Da ricco che era Si è fatto povero Per arricchirci Della sua ricchezza Quindi Dio Si è fatto povero Per darci La vera Sua ricchezza Ma il segreto È Farsi Si è fatto vero Uomo Quindi se io Per esempio Una persona Non so Entrare Nella sua vita Io non riesco A salvarla Veramente È come se Dicessimo Quando una persona Mi dà la sensazione Che mi capisce Dentro Io Mi Riesco a farmi salvare Aiutare È come per dire Se io rimango Sempre Un po' estraneo A quella persona Non riesco Neanche a capire I veri problemi Di quella persona Io Devo in qualche maniera Entrare Nella vita Di un'altra persona Per poter Aiutare Quella persona E poi A liberarsi Dalla sua Schiavitù Quindi è una cosa Molto importante Vedete questa A tutti i livelli Sia spirituale Teologico Che anche Pastorale Che anche esistenziale Che anche psicologico Ecco Quando una persona Non riesce A essere empatica Cioè Entrare In vera Comunione Con un altro Difficilmente Si realizza L'amore vero Perché rimangono Come due Due esseri Un po' paralleli Che non formano mai Un'unità L'unità Si forma Quando Si realizza Quando una persona Ha la capacità Di mettersi Nei panni Dell'altro Come per dire Al posto suo Ecco Se noi Facciamo un esercizio Quando una persona Ci parla Ed entriamo Proprio nel suo Nel suo mondo E non la giudichiamo Quella persona Ma entriamo Nel suo Nel suo tormento Anche nei suoi guai Nei suoi problemi E entriamo Nel suo mondo E ci facciamo Proprio Possiamo dire Ci uniamo A quella vita Noi Possiamo poi Trovare I mezzi migliori Per tirarla fuori Con la persona Ma fino a quando Noi diamo Abbiamo un ascolto Esterno E restiamo Esterni Anche quando Diamo un consiglio Di fatto Rimane sempre Un consiglio Esterno Io vi direi Riflettete Su questo Perché Dio Si è fatto Vero uomo E si è identificato Addirittura Con le persone Che hanno sofferto Di più Con i più poveri Proprio per questo Motivo Dio Ha potuto Liberarci Perché Si è fatto Uno di noi E poi Con la vittoria Che ha realizzato E i sacramenti Ci porta Nel mondo Di Dio Quindi Questo passaggio È molto importante Andiamo avanti È sempre La sapienza Di Dio Che parla Una sola È l'entrata Di tutti Nella vita È uguale Nelle uscita Vedete già Questa considerazione Quando nasciamo Siamo uguali O nasce Il figlio del re O nasce Il figlio del popolano Siamo uguali E quando ne usciamo Tutti Morendo Siamo uguali E poi Possiamo dire Quello che avviene In questo mondo Che tante volte Crea Situazioni diverse Per questo pregai E mi fu elargita La prudenza Implorai Questo è Salomone Che parla E venne in me Lo spirito di sapienza La preferii A scettri E a troni Stimai un nulla La ricchezza Al suo confronto È un po' La messa di oggi Che ci dice Che la vera ricchezza Non è il denaro Ma la vera ricchezza È l'amore vero Che poi sarebbe La sapienza Che diventa amore Andiamo avanti L'ho amata Più della salute Vedete Tante volte Noi sentiamo dire Alla gente Diciamo L'importante È che c'è la salute No C'è qualcosa Di più grande Della salute L'ho amata Più della salute Anche se la salute È una cosa Importantissima Però se avessi la salute Fisica E avessi invece L'inferno nel cuore A che servirebbe A avere la salute Se io fossi Pieno di salute Sto benissimo in salute Ma sono triste Non mi posso godere Manco la salute L'ho amata Più della salute E della bellezza Ho preferito Avere lei Piuttosto che la luce Perché lo splendore Che viene da lei Non tramonta Insieme a lei Alla sapienza Mi sono venuti Tutti i beni Nelle sue mani È una ricchezza Incalcolabile Ho gioito Di tutto ciò Perché Lo rega la sapienza Ma ignoravo Che ella è madre Di tutto questo Ciò che senza astuzia Ho imparato Senza invidia Lo comunico Non nascondo Le sue ricchezze Ella è infatti Un tesoro inesauribile Per gli uomini Chi lo possiede Ottiene l'amicizia Con Dio E a lui Raccomandato Dai frutti Della sua educazione Allora Tutto questo Si realizza Per noi È molto più facile Rispetto ai tempi Di Salomone Perché tutto questo Si realizza Nella persona Di Gesù Tutto quello Che è la sapienza È in pratica Nella persona Di Gesù Gesù Per esempio Che dica al Padre Padre dammi Gesù La sapienza Io lo desidero Più della salute Più della luce Più di ogni cosa Ecco Dio si compiace Di questo E certamente Se tu perseveri Nel chiedere Perché devi perseverare Nel chiedere Perché certe volte Si chiede con la testa Con le labbra Ma non si chiede Col cuore A volte si chiede Con la testa Con le labbra Col cuore E la vita però è diversa Quindi tante volte Il Signore deve Aspettare Per darci un dono Deve aspettare Che si sintonizzino La mente Le labbra Il cuore E la vita Perché se per esempio Io agisco In una maniera Diforme Da quello che desidero Io distruggo I toni di Dio Ecco Se per esempio Una persona Chiedesse l'umiltà E poi agisse Da orgoglioso Sì Il Signore Mi duna l'umiltà Ma io Nell'azione Poi distruggo Con l'orgoglio Tutto Quindi tante volte Il Signore ci chiede Di perseverare Nella preghiera Perché non sono Sintonizzati La mente Le labbra Il desiderio Del cuore E la vita A poco a poco Man mano che persevero A poco a poco Si uniformano Tutte Creano un'unità E il Signore Fa maturare Il frutto Della sapienza Per questo a volte Bisogna anche Pregare degli anni Perché tante volte La gente Per esempio Ci dice Padre Ma io prego Ma il Signore Per esempio È come se non Mi ascoltasse No Il Signore Ascolta sempre Ma c'è qualche cosa Da aggiustare C'è qualche cosa Che il Signore Vuole aggiustare E tante volte E tante volte Queste persone Il Signore Ci indica O indica Una strada Anche stretta Di purificazione Per esempio Dall'orgoglio Dalle paure Dall'irrigidimento Nei ragionamenti umani Se per esempio Una persona È troppo ragionatrice Con la mente E comincia a ragionare Deve capire Dovrebbe capire Che la sapienza Ha delle ragioni Che la mente Non capisce È come per dire La sapienza di Dio È un ragionamento divino Superiore A ragionamenti umani Vi ricordate Quando Gesù Rimprovera In Matteo 16 A San Pietro Perché tu ragioni Come gli uomini Non ragioni Come Dio Quindi se uno Ragiona come gli uomini E chiede cose sapiente A Dio Il Signore dice Comincia a allumerarti Il cervello Perché devi imparare A ragionare Come ragiona Dio Infatti Dio ragiona A partire dal regno Dei cieli Ma una persona Umana ragiona A partire dalle cose umane Non si può mai Capire sta cosa Quindi Tante volte Sapete Una persona si stupisce Ma perché il Signore Non mi ascolta Perché il Signore È come se non ci fosse Perché No Il Signore c'è Solo che evidentemente Ancora c'è Lui ti ama Lo stesso Ma ancora c'è Una oggettiva Impossibilità Di essere in comunione Ma ci sarà qualcosa Magari non è un peccato Saranno Le paure Saranno i ragionamenti umani Le cattive abitudini Per esempio Anche le cattive abitudini Un'educazione Per esempio Sbagliata Che abbiamo ricevuto Mettete che per esempio Abbiamo ricevuto Un'educazione Troppo Dipendente Dall'occhio umano Sapete Certe volte Siete con i figli In un modo Che senza volerlo Alimenta in loro L'occhio della gente Sapete Mettete che per esempio Un padre e una mamma Dicono Ecco non facciamo ridere gli altri O sono troppo sensibili A chi dicono gli altri E facciamolo così Le persone non ci sparlano I bambini Crescendo così Crescono con l'idea Che chi dicono gli altri È importante Ce l'ha a trovare poi Il suo signore Ci vuole dare una cosa Che è impopolare Quindi quelli là La scartano subito Perché certe volte Il signore ci chiede Una cosa Che gli altri non capiscono Ma se uno mette Al primo posto No E sapete quante volte Ma Dico c'è da ridere O da piangere Certe volte Perché tante volte Tu vedi gente Che non potrebbe Fare delle spese Eppure Le fa Mettendosi in teguai Mettendosi in mani Struzzini A banca Per chi? Per non far ridere agli altri Per non farsi criticare Per l'occhio della gente E tu dici Ma che ti interessa L'occhio della gente Scusa Ma se tu hai Stata situazione Non è che puoi stare All'occhio della gente La gente critica Ecco Se il suo cugnato Aveva una macchina Di 5 mesi Tu l'avete di 5 mesi E vinte Perché Se no Che dice Così Sapete La società ragiona così Ecco Io mi ricordo Una volta Un amico mio Che aveva una macchina Utilitaria Però poi Trovo un posto Dei rappresentanti Nella corsa ditta Che nella corsa ditta La prima cosa Ci dice Se deve cambiare la macchina Deve avere Perlomeno una macchina Di un certo valore Perché Lei si presenta Da un cliente Con una utilitaria E chi ne manco ci fanno Manco la considerano Quindi dice Io ho dovuto comprare Una macchina Prestigiosa Perché quando arrivo Già quello che mi vede Chi è un rappresentante Di sta ditta E tu che arrivi Con una macchina Lussuosa Già fai capire Che la ditta È importante Vedete L'occhio della gente Quindi perché Perché a sostanza Non ci interessava Perché è come per dire Tu devi Avere E poi ti devi vestire Per esempio Con certi Certi caroni Certi cose Perché Perché la ditta Anzi addirittura Mi ricordo che allora Mi ha detto un passaggio Mi disse Dobbiamo andare Ti offro il pranzo Si sape Non muodici Io non posso Ieri In una Ciattoria Perché io Sono obbligato A dire Una cosa Perché Tutto deve essere Prestigioso Perché in effetti La ditta era prestigiosa Quindi vedete Se tu ti conformi All'occhio della gente A un certo punto Potresti avere Difficoltà Poi a capirti con Dio Perché Dio Non ragiona così Dio è una persona Alternativa Da questo punto di vista Non è mondano Dio non fu accettato Gesù quando andò A Nazareth Luca 4 Non fu accettato Perché era semplicemente Diceva cose alte Da dove gli viene Sta sapienza Però non gli credettero Perché dice È il figlio di Giuseppe Di Maria Cioè di gente Normale Quindi sarà un imbroglio Cioè non c'era corrispondenza Fra l'altezza Della sua sapienza E il prestigio Della sua casata Quindi pensavano Gli ebrei Che una persona Così alta Dovesse essere Almeno Uno scribba Una persona importante Diciamo Un laureato Diremmo oggi Siccome è il figlio Del falegname Tu dici Scusa Un figlio del falegname Che mi può insegnare a me Ecco Ma voi vedete Che anche oggi Succederebbe questo Se il figlio Dello spazzino A un certo punto Vi fa una predica Una persona potrebbe dire Ma questo Mi vuole insegnare a me Ho un figlio del spazzino E ora si mette a fare Un professore Ma succede questo Perché? Perché oggi Sempre c'è questo Noi uomini Ragioniamo così Che se una persona Vuole avere successo Si deve conformare Alla logica del successo Perché altrimenti Non ha successo Tu devi fare questo Ma Dio Non è così Come gli uomini Per questo Io direi Bisogna capire Che il vero tesoro Se è Dio Sapete Chi fa l'esperienza Di Dio In qualche maniera Deve E' un po' Controcorrente In senso positivo Controcorrente Rispetto alla società Se tu segui Le mode Tante volte Non puoi seguire Dio Se segui L'andazzo Del Possiamo dire Della cultura Tante volte Ti trovi Non in sintonia Con Dio Quindi Chi Conosce Dio Chi ascolta Dio Chi segue Dio In qualche maniera Si direbbe In senso teologico Deve avere Una vita profetica Profetica Significa Che parla di Dio Cioè Il nostro modo Di parlare Non può Conformarsi Al mondo Deve portare Nel mondo Quello che vuole Dio Questo è il Carisma profetico Importante Se andiamo avanti Siamo a Sapienza 7 Sì Sempre Sapienza Versetto 20 C'è un altro brano Poi Ho conosciuto Tutte le cose Nascoste Dice Salomone Quelle manifeste Perché mi ha Istruito la sapienza Artefice Di tutte le cose Questo fatto Delle cose Nascoste Poi vi porterò Degli esempi Non si tratta Solo di enigmi Di cose così Ma potremmo dire Oggi Le cose che ci sono Nel profondo del cuore Per esempio Ci sono delle cose C'è una conoscenza Profonda Dell'umanità Che non è superficiale Che ti dà La parola di Dio Cioè il Vangelo Ti fa conoscere Le cose anche Nascoste Nel profondo del cuore In lei Nella Nella sapienza C'è uno spirito Intelligenza Santo Unico Molteplice Vedete lo stesso Unico E contemporaneamente Molteplice Cioè è come per dire C'è un'unità E all'interno di questa unità C'è una grande Molteplicità Pensate per esempio Quello che poi sarà In San Paolo Nella prima lettera Il discorso dei corinzi Il discorso dei carismi Dal capitolo 7 In poi Della prima lettera Ai corinzi Quando San Paolo dice Dio distribuisce Tanti doni Diversi Ma poi Di questi doni Crea l'unità Nella carità Quindi Nello stesso momento C'è una molteplicità E nello stesso momento C'è un'unità L'esempio che possiamo fare È l'orchestra No? C'è un'orchestra Di cento elementi Suonano ognuno Una cosa diversa Uno strumento diverso Ma tutti insieme Formano una sinfonia Ecco Sotto la direzione Di un maestro In questo vedete C'è un'armonia Che tante volte Per esempio Se una persona Non è capace Di suonare con gli altri Può essere pure Un bravo violinista Un bravo maestro Però non esce la sinfonia Bisogna saper suonare Ma in armonizzare Quello che noi facciamo Con la vita degli altri Vi accorgete che In questo mondo Ci sono molti solisti Che se tu li fai suonare su Le suonano Ma insieme agli altri Non riescono a Vi accorgete che Certe volte Noi stessi diciamo È meglio fare le cose da solo Gli faccio più tranquillamente Perché in effetti Certe volte Uno si contenta A fare le sue cose Perché le fa a modo suo Invece mettere insieme Tre quattro persone Che devono organizzarsi Sapete ci vuole più fatica Ci vuole più fatica Perché se andano a mettere d'accordo Tu fai questo Tu fai quello Tu fai quattro Ecco mettere insieme Le persone È più fatica Lavorare in equip Per esempio Tante volte È più faticoso Anche in ospedale Per esempio Però lavorare in equip È più faticoso Però poi è più redditizio Perché quando Travagliano C quattro dutture Cinque dutture È più facile Che insertano È più difficile Che sbagliano Perché sono in equip Tutti insieme Invece quando è uno solo Sì Sapete È più facile Gestire le cose Senza armonia Però vedete Il molteplice Unico E molteplice Sottile Agile Penetrante Senza bacchia Senza bacchia Schietto Giustamente Giustamente Quello che è De uno E dell'altro Nella Santissima Trinità C'è proprio Tutta questa ricchezza Di doni E di azioni Questa è una vita Che Dio ci comunica Immaginate Che tutto quello Che stiamo leggendo Il Signore ce lo comunica Nel frammento Dell'Eucaristia Quando noi ci prendiamo L'Eucaristia Il Signore ci dà La sua vita E che comprende Anche la sua sapienza Andiamo avanti La sapienza È il riflesso Della luce perenne Uno specchio Senza macchia Dell'attività di Dio È l'immagine Della sua bontà E questo poi È un po' ripreso Il versetto 26 Si ritorna al versetto 26 Sarà un po' ripreso Dall'inizio Della lettera Agli ebrei Quando si parla Di Gesù Che è il riflesso Perfetto Della luce di Dio Della vita divina Ecco andiamo avanti Sebbene unica Può tutto Pur rimanendo in se stesso Tutto rinnova E attraverso i secoli Passando nelle anime sante Prepara amici di Dio E profeti Dio infatti Non ama Se non chi vive Con la sapienza Ella in realtà È più radiosa del sole E supera ogni costellazione Paragonata La luce risolta Più luminosa A questa infatti Succede la notte Alla luce del giorno Ma la malvagità Non prevale Sulla sapienza Ecco vi accorgete Ecco vi accorgete Che anche leggendola Una persona Si accorge Che non bastano Le parole Perché c'è tutto Un effluvio Di parole C'è tutto Una Una descrizione Fatta con le parole Come se le parole Non bastassero Per descrivere Quello che è dentro Si può descrivere Con mille parole Ma non si riesce mai A esprimere Tutto quello La ricchezza Che c'è dentro Quindi L'amore di Dio È un po' così Se andiamo avanti C'è un esempio Mirabile Ecco Tra i sapienti Io ho riportato Due persone Che nella Bibbia Sono sapienti Perché si sono lasciati Illuminare da Dio Uno è Daniele C'è nel tuo regno Un uomo Questo stanno parlando I consiglieri del re Perché il re Aveva bisogno Di interpretare Tre parole Segrete Che erano spuntate Perché si comportava male E gli dicono C'è nel tuo regno Un uomo Nel quale Lo spirito Degli dèi santi Al tempo di tuo padre Nabucodonosor Si trovò in lui La luce Intelligenza E sapienza Pare alla sapienza Degli dèi Questo era il profeta Daniele Il re Nabucodonosor Tuo padre Le aveva fatto Capo dei machi Degli indovini Dei caldei E degli astrologi Fu Riscontrato In questo Daniele Che il re Aveva chiamato Balthasar Uno spirito straordinario Intelligenza E capacità Di interpretare sogni Spiegare enigmi E risolvere Questioni difficili Si convolui Dunque Daniele Ed egli darà La spiegazione Fu allora Introdotto Daniele Alla presenza del re Ed egli disse Sei tu Daniele Un deportato Dei giudei Che il re Mio padre Ha portato qui Dalla giudea Ho inteso dire Che tu possiedi Lo spirito Dei santi E che si trova In te Luce Intelligenza E sapienza Straordinaria Ecco Questo brano Ecco Poi lui darà La spiegazione Sarà una spiegazione Terribile E gli dirà Che non aveva Lunga vita E che si sarebbe Rovinato Ecco Però la cosa Importante È proprio questa A volte Chi coltiva La sapienza Di Dio Al di là Del fatto stesso Che è un Particolare Ma chi ha La sapienza Di Dio Tante volte Riesce a percepire Per un dono Di Dio Proprio Il vero senso Di quello Che Dio vuole Ecco Perché la sapienza È coltivata Da coloro Che ascoltano La parola Io sto parlando Come cristiano Al di là Perché qua siamo Ancora nell'Antico Testamento Ma per noi cristiani Coltivare la sapienza Significa Coltivare la parola Viva di Dio Nella preghiera Nell'ubbidienza Al Vangelo In uno stile Di vita Di carità Se conforme Al Signore E a poco a poco Chiedere la sapienza Guardate E è molto bello Per noi Chiedere a Dio Non solo cose Che servono Ma prima di tutto La sapienza Signore dammi la sapienza Perché se io Possedessi la sapienza Potrei gestire Nel bene La mia vita Ecco Bisogna chiederle Le cose a Dio Perché tante volte Noi chiediamo Cose che non sono La sapienza Cioè diamo importanza A cose A altri doni Molto meno Importanti Della sapienza Un altro Esempio Di uomo sapiente È Giuseppe Figlio di Giacobbe È importante Questo Perché È diventato Sapiente A furia di guai Vi ricordate Quando i fratelli Lo volevano uccidere Lui passò Tante traversie E poi Il Signore Invece Lo aiutò A diventare Un uomo sapiente Ecco Questo è un esempio Molto importante Sapete perché? Perché anche oggi Quando una persona Ha dei guai O si deprime O si distrugge Oppure Li offre a Dio I suoi guai E Dio Trasforma Quei guai In benedizione Ecco Questo è molto importante Vedete Tante volte Una persona Che subisce Dei guai Pensate I guai Causati dai fratelli Suoi Avrebbe potuto Reagire In modo Anche possiamo dire Diametralmente Opposto Cioè Odio per odio Dente per dente E invece Lui Accolse Quelle situazioni Non in maniera passiva Ma li accolse Con la fiducia In Dio Che Dio Mi aiuterà E Dio Lo aiutò Allora Siamo Sapete Così Vi do La Possiamo dire La location Bibbrica Siamo alle sette vacche magre E le sette vacche grasse Per cui In questo In questo In questa situazione Il faraone Voleva sapere Che significato Avessero Le sette vacche magre E sette vacche grasse E lui Chiedeva Se ci fosse Un sapiente Che avrebbe potuto Dare una spiegazione Il faraone Disse ai ministri Potremmo trovare Un uomo Come questo In cui sia Lo spirito Di Dio E il faraone Disse a Giuseppe Dal momento Che Dio Ti ha manifestato Tutto questo Perché lui Diede la spiegazione Non c'è nessuno Intelligente E saggio Come te Tu stesso Sarai il mio Governatore E ai tuoi ordini Si schiererà Tutto il mio popolo Solo per il trono Io sarò più grande Di te Cioè E come per dire Era il luogotenente Del faraone Se vi ricordate Poi Questo ruolo Gli consentì Di aiutare I suoi fratelli Che erano affamati E che andarono Dal faraone Per chiedere grano Perché erano Nella carestia E giusto giusto Trovarono Quel fratello Che loro Volevano uccidere Che nel frattempo Dio aveva fatto Diventare così importante Quando poi Tanto vi ricordo Quando poi Lui si rivelò Loro avevano paura Che lui si vendicasse Però Lui che cosa disse Io non ho bisogno Di vendicarmi Perché tutto il male Che voi mi avete fatto È diventato Un bene Per me E per il popolo Perché Dio Mi ha aiutato A trasformare Tutto il male Che voi mi avete fatto In un bene Molto più grande Che servirà Per il vostro popolo Quindi io non ho bisogno Di vendicarmi Ed è una bella lezione Sapete L'uomo sapiente In effetti Non sente Vi dicevo prima Nell'ottica Della rivelazione Del Signore Non serve La vendetta Ma serve Il fatto Che io Condivido Con Dio Il gioia E dolori E so che Dio Trae il bene Dalle gioie E dai dolori Da tutta Pure dalla morte Come per dire L'uomo sapiente Si rende conto Che in Dio Trova la sua vera Salvezza Ecco Pegliamo solo Questo brano Ora Che parla Dell'anzi Questo è quello successivo Vorrei chiudere Con un altro aspetto Della parola di Dio Dio che rivela La legge Ecco Fino ad ora abbiamo detto Dio Si serve dei profeti Dio vuole Illuminare Con la sapienza La mente Degli uomini Ecco Si serve degli uomini Sapienti Che coltevano la sapienza Dio Parla al popolo Attraverso La legge Che dà attraverso Mosè Le parole Quindi questo è il prossimo brano E poi chiudiamo oggi E continueremo poi Nel mese prossimo Mosè Rimase Con il Signore 40 giorni E 40 notti Vi ricordo Che nel libro dei numeri Al capitolo 12 C'è scritto Che Dio Parlava Con Mosè Come un amico Parla con l'amico Perché Non c'era Una persona Più umile Di Mosè In tutto Israele Quindi questo Già ci fa capire Qualche cosa Che poi Rivedrà Ci farà rivedere Anche nella vita Si farà rivedere Nella vita Della Madonna La Madonna Diventa Luogo Della Dell'intimità Con Dio Proprio perché È umile Infatti È Gesù Che ha detto Dio Si nasconde I superbi E si rivela Agli umili E Mosè Era la persona Più umile Che c'era Che c'era Allora disponibile Stiede 40 giorni E 40 notti Senza mangiare pane E senza bere acqua Vedete che anche questo È Non è scientifico Perché quando Anche quando Gesù fece il digiuno Era digiuno Però Non è che non mangiavano Non bevano niente Perché non si può campare Non si può vivere Senza bere acqua Non si può vivere 40 giorni Ecco ma era un modo Per dire Che si privavano Di tante cose Quindi Bevevano in un ruscello Occasionale Mangiavano qualche bacca Qualche frutto Qualche cosa È come per dire Non avevano pasti regolari Perché uno potrebbe dire Ma come si vive 40 giorni Senza mangiare E senza bere Perché Io ho conosciuto gente Che ha tentato questo Ma stavo morendo Però Quindi non era il caso Perché uno Sapete Uno che legge la Bibbia Certe volte In maniera maldestra Dice un attimo C'è scritto nella Bibbia Che Mosè Stave 40 Perché non lo posso fare pure io Però Vi assicuro Che non si interpreta così La Bibbia Se bisogna entrare Nella loro cultura Il modo di parlare E vi ricordo Che anche noi Abbiamo un modo di parlare Un po' Ecco Quando per esempio Diciamo Ci facciamo quattro passi Noi che facciamo quattro passi Cioè Se una persona Del 3000 Ascoltasse una registrazione Di noi Che diciamo Senti Ci facciamo quattro passi Dice Ma guarda che strano Nel 2022 Se facevano quattro passi Sarebbe un'interpretazione banale Ecco Era un modo di dire Anche perché 40 Era il numero Che indicava Una generazione Quindi Stare 40 giorni 40 notti Senza mangiare Significa Vivere 40 giorni Di penitenza Ecco Senza un pasto regolare Ecco Mangiando quello che Occasionalmente Si trovava Ecco Sopravvivere Lo stesso Con qualche acqua del ruscello Qualche cosa così E gli scrisse Sulle tavole Anche perché Questo digiuno Era La preparazione Lo fece pure Gesù Se vi ricordate No? Era la preparazione Per l'incontro con Dio E come per dire Tante volte La penitenza La purificazione Che vi dicevo prima Si deve È propedeutica All'incontro con Dio Cioè una persona Deve anche Fare un po' di purificazione Dall'orgoglio O anche dalla televisione Dai social Per esempio Oggi come oggi Con Dio Magari si scriverebbe Stire 40 giorni Senza Whatsapp Ecco Fece digiuno Non so Telegram Ecco eccetera Per dire Che una persona Si dedica a Dio E si priva Di alcune cose E gli scrisse Sulle tavole Le parole Dell'alleanza Le dieci parole Perché vi voglio Fare leggere Questo brano Perché in genere Noi I dieci comandamenti Ce li ricordiamo Quelli più vecchi Dal catechismo Ecco Primo Secondo Terzo Così Se noi Piliamo l'originale Che è questo Vi accorgerete Che quella Che noi sappiamo È una sintesi Che fece San Pio X Ecco È rimasta Nella nostra storia Perché San Pio X Partendo da questo brano Ha stilato I dieci comandamenti In modo sintetico Che li insegnavano A noi Da bambini A memoria Ecco Dio Non avrai altro Dio Fuori che me Secondo Ecco Terzo Ricordati Di santificare le feste Quarto Onore Il padre Vi ricordate Questo qua Ecco In realtà L'originale È questo E concludiamo Con questo Dio Pronunciò Tutte queste parole Io sono Il signore Tuo Dio Vedete Un fatto storico Che nei dice Comandamenti Noce Non c'è Ti ho fatto Uscire Dalla terra D'Egitto Dalla condizione Servile Non avrai Altri dei Di fronte A me Non ti farai Idolo Né immagine Alcuna Di quanto È lassù nel cielo E di quanto È qua giù sulla terra Né di quanto È nelle acque Sotto la terra Non ti prostrerai Davanti Vedete Ancora Questo è un primo Comandamento Non ti prostrerai Davanti a loro E non li servirai Perché io Il signore Tuo Dio Sono Dio Geloso Che punisce La colpa Dei padri Nei figli Fino alla terza E alla quarta Generazione Per coloro Che mi odiano Ma che dimostra La sua bontà Per mille Generazioni Per quelli Che mi amano E osservano I miei comandamenti Non pruncemo Non pruncerai In vano Il nome Del Signore Tuo Dio Perché il Signore Non lascia impunito Chi pronuncia Il suo nome In vano Ricordati Del giorno Del sabato Per santificarlo Sei giorni Lavorerai E farai Il tuo lavoro Ogni tuo lavoro Ma il settimo giorno E il sabato In onore Del Signore Tuo Dio Non farai Alcun lavoro Né tu Né tuo figlio Né tua figlia Né il tuo schiavo Né la tua schiava Né il tuo bestiame Né il forestiero Che dimora Dimora presso di te Perché sei giorni Il Signore In sei giorni Il Signore Ha fatto il cielo La terra E il mare In quanto è in essi Ma si è riposato Il settimo giorno Cosa che noi Non facciamo Perché molte persone Se ci fate caso Oggi come oggi Il settimo giorno Il settimo giorno Fanno un ciavaglio Alternativo O addirittura Ciavaglio Uno stesso Perciò il Signore Ha benedetto Il giorno del sabato E lo ha consacrato Onora tuo padre E tua madre Perché si prolunghino I tuoi giorni Nel paese Che il Signore Tuo Dio Ti dà Non ucciderai Non commetterai Adulterio Non ruberai Non pronuncerai Falsa testimonianza Contro il tuo prossimo Non desidererai La casa del tuo prossimo Non desidererai La moglie del tuo prossimo Nel suo schiavo Nella sua schiava Nel suo bue Nel suo asino Nel alcuna cosa Che appartenga Al tuo prossimo Vedete San Pio X Ha sintetizzato Per renderlo più facile Da Da metterlo a memoria Da mnemonizzarlo Va bene Poi nel mese di ottobre Continueremo Questo discorso Sulla parola di Dio Gloria al Padre Al Figlio Allo Spirito Santo Maria Madre della Chiesa Prego